Riunito il Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica in previsione del Ferragosto, la seduta preseduta dal prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia ha visto la presenza dei vertici delle forze di polizia. Tra le questioni trattate si è discusso della necessità, durante il ponte di Ferragosto, di potenziare i servizi di controllo straordinario e di vigilanza agli obiettivi ritenuti sensibili, come le sedi istituzionali e delle organizzazioni sindacali presenti nel territorio provinciale. Prevista l'intensificazione delle attività di prevenzione, soprattutto nelle località a maggiore richiamo turistico e balneari insistenti nella fascia costiera del Nisseno. Disposti maggiori controlli negli impianti stradali e autostradali, stazioni ferroviarie e il porto di Gela, intensificando l'attività di controllo dei passeggeri in transito, dei bagagli e delle merci. Attenzione anche alle strutture sanitarie nel caso di eventuali situazioni di emergenza. Obiettivo fondamentale, ha dichiarato il prefetto, è come sempre garantire i cittadini e i turisti che nella festività di Ferragosto saranno presenti in questo territorio provinciale, si legge nel comunicato della prefettura, una serena e libera fruizione dei luoghi di svago e di maggiore interesse, assicurando forme di tutela efficaci per la sicurezza e l'incolumità personale. Grazie. 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 Grazie.